Turismo per i beni culturali. Perfetto, guarda, ci seguono nel giusto modo e poi comunque siamo noi, siamo un bel gruppetto di studio. D'accordissimo. No, io sono entrata con un'idea all'università e poi frequentando i corsi comunque ho capito effettivamente quale poteva essere il mio futuro e quali sono le cose che mi piacciono di più e quali di meno. Bastante bene. Abbiamo, cioè, oltre ai laboratori, la cosa importante che riusciamo sempre a fare sono state, e per lo più anche a varie attività al di fuori dell'università. Quindi se magari prima ero orientata sul mio futuro, su una scelta, una determinata scelta, adesso sì ho cambiato un po' idea. Eh, vorrei aprire un bel albergo a Cuba. Sono trovata bene perché comunque diciamo che siamo molto seguiti, anche i professori sono estremamente disponibili e quindi non è dispersivo come le altre università praticamente. Penso che il lavoro in Italia, soprattutto nell'ambito del turismo, diciamo offra molto. Sì, c'è grande disponibilità. Lavorare nel mondo del turismo.